Ben a tutti ragazzi, ben ritornati dal vostro Joker, siamo tornati... Buon Natale! Eh, si è cazzato, tra po' arriva. Eh, siamo a febbraio. Signori, siamo qua di nuovo con le Big Brothers Royale, sempre contro CiccioGamer89, signori. Che culo! E oggi andiamo a fare una sfida natalizia, praticamente andiamo a usare il deck come stai vedendo qui, solamente con i Goblin Cerbottanieri. Goblin Cerbottaniere! Cerbottaniere. È uno! Ah, è uno? È uno! Non escono di più, io non ho mai utilizzato quella carta, quindi ve lo dico, io pensavo che erano Cerbottaniere, quindi non c'erano 7 e 8. È uno. Quindi siamo pronti, questo è il mio deck, il tuo che c'hai? Io ho Barbari Scelti, Golem di Ghiaccio, Goblin Cerbottaniere, Mega Sgherro, Barrile Goblin, Minatore, Razzo e Scarica. Eh, vabbè, ma sei proprio una merda se... Ma perché, scusa, eh... Eh, ma sei proprio una... Ma guarda, però ti posso dire che per chi mi segue sul mio canale, eh, non l'ho... l'ho provato mezza volta sto deck. Vabbè, certo, sì. Mezza volta. E fu così che muoio malissimo! Mezza volta. Guarda, a meno che potrei fare forse... Che mi invento? Che ne so? Che mi invento? Io ti direi un sacco di cose che poi toglie, però... Guarda, io voglio fare solo una cosa che voglio cambiare. Una cosa solo. Una cosa solo. Che non sa neanche lui. Una cosa... Faccio così, guarda, voglio giusto per fermarti con i barbari scelti da merda. Vado? Eh... Sì, sì, vai, bella mossa! No, che posso mettere? No, no, vai, vai, vai! No, solo metto, che metto? No, no, ti dico, bellissima mossa! Questi? Ti dico, gioca con... Questi? Ti dico, gioca con i barbari! No, che è come sta a fottere... Mi sta anche... No, dai, adesso gioca con i barbari. No, voglio questo. Va bene. Vai la mossa. Ah, no, vabbè, quando c'è pure... Te scarica! No, 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 regà, non so che fa! Ti dico, intanto... Ma è tornato? No, sì, quella me li fermi sicuro. Dai, Mirko! Siamo nei giochi con una carta... No, no, sta a fa' a merdi... Gioca con una carta... No, che ti congelo, schifo! Ma ce l'ho... Vai! Ah, dai! Ah, hai fatto il cazzo, ci... Metti una carta! Aspetta, fammi scegliere bene! Ma te stai, se hai perdito tempo... Metti i barbari! Metti i barbari! I barbari? Barbari, no, quelli scelti! Oh, mi sei proprio a un culo! Ah, basta e metti qualcosa, vai! Va a fa' un culo, va! Oh, vabbè! No, sei, 4.1! No, è troppo, aspetta, dai, l'ultima cosa... Isgherri! Ma se è proprio una merda! Ma scusa, ma se devi fermare i miei barbari scelti, metti i barbari scelti tuoi, scusa, eh! Eh, ma sei proprio uno stronzo! Vabbè! Vai, vabbè, invidami, va! E t'ho invitato! Vabbè, ho capito, ma ti hanno finito la carta! Vabbè, dai! Ma per te, ma per te! Eh, già l'errore di connessione, guarda! Eh! Eh, poi dici qua, che roba! Ma si disconnette pure, se è stato di più pure vinto! No, via un'altra coppa, se te va! Ma ce n'ho pochissime! Eh, ce n'ho pochissime! Fammi vedere come si usa sto coso qua! O stronzo cerbottaniere! Eh! Ma è bellissimo! Guarda che culo d'ha messo pure a livello 7, guarda! È meritato, tra l'altro! Eh, me sembra il minimo che sta a livello 7! Immeritato, tra l'altro, te lo ripeto! Ma è fighissimo, però! Oh, guarda che bei danni! Guarda, guarda! Perché fanno così male? Eh, perché quelli fanno male! No, ma regà, questo mi è stanculato, dico io! Ma sicuro, guarda! Mastardo, pensavo che ti mettivi da là! Mi dici, eh! Vai! Vabbè, dai, almeno tu sganassi li tolto, tirare! Aspetta, ma quel minatore che stava là! Eh! Che gli è successo? Ma, di solito... Ma do i danni! Ma quanto cazzo fa male? Madonna mia, i danni! Ma quanto fa male? Ma che sei pazzo! Guarda, guarda come è arrivato sotto... Guarda, è arrivato sotto... Madonna, Madonna, Madonna! Ma aspetta, faiata una botta! Eh dai, vabbè! Eh, invece... Non c'è gusto però così, regà! Invece... Guarda, per il momento ti sto attaccando molto, molto, molto delicatamente, eh! Guarda, hai fatto una buona tattica! Eh, dopo mezz'ora è uscito fuori! È la madonna! Eh! Ecco, non si ferma! Non è schifoso! Guarda che non è facile come sembra! Ah, maledetto! Simo, non ti fa un culaccio! Sei proprio uno stronzo, sei! Simo, vabbè, percada, dopo sicuramente vorrei rimettere... Sì, sì, metto il mega scossone là, ma che cosa si chiama? Ma dosi... Dai, perché ti fanno così male a te le truppe? Cala questa, amici! No, no, stai bene! Ma di cazzi tu hai, che dopo calo io! No, regà, non vale! Questo mi sto a barare proprio! Ma io non sto a barare per niente! Dai, io c'ho più easy, ma se faccio calcosì! Ma se faccio calcosì! Guarda che culo, ho pure sbagliato a mente qualcosa, va! Ma ha dei danni, che bello! Perché sai pesa con questi imbecille? E forse qualcuno ha tirato bene una carta, che ne sai? Eh... Vediamo che cala l'imbecilloso! No! Mi scivolato il dito! Mi scivolato il dito, ragazzi! Mi scivolato il dito! Stai giacato il pc del mezzo! Mi scivolato il dito! Cazzo! E mo? E mo? Diciamo che la... Mi non mi gara le truppe! Me laggo! Ti giuro, non manca! Perché non te l'hai barbaro? Questo lagga sempre! Ma perché non te l'hai barbaro? Ma chi chi ha detto? Eh... Sì! Ma dai, su regà, questo sta a barare proprio! Comunque sta gioco così con il tuo fratello, eh! Sì, sì! Ste cose non si possono fare! No, ho capito! No, dopo 40 anni... Ma si, ma ti andai qui! Ma ti andai dopo mezz'ora! Ma c'è il problema! Cazzo ci frega noi! Dai, alla fine in sé è andato male, oh! No, no! Ti pare? E che è andato male? Mancuno esplosa, oh! Che farlo? Dai, certo, sei proprio uno stronzo, eh! Regà, ha barato tantissimo! Ma perché ho barato tantissimo? Sì, perché tu hai messo lo stronzo quello che esplode là! No, l'ho usato una volta! Il mega razzo, non vale! Il mega razzo! No, va bene, non va bene sta cosa! Eh, cambia! Eh, la sua, una volta... Io quella volta dovuto buttarci la torre, sicuro! Guarda, palla proprio! Ma se non avevo il mega razzo, magari c'è un'altra truppa buona! Ehm... Ma qualcuno voglio clonare! Che cosa cloni? Lo so io, mi... No, no, dimmi che... Te faccio una tattica, mo' che te scureggio addosso! Ok! Ha potenzio pure! Non c'è bisogno di potenziala! Ma la voglio potenziala! Vabbè, in vita, me so! So! Vita, me in vita, me! Allora, mo' che inizia, gli devo una cosa a giocare, eh! Però non subito! Pratico, adesso accetta! La clonazione, di clona le carte, ma quelle carte muoiono con un colpo! Eh, tu non ti preoccupare! Ok, quindi una scarica significa che sono morta! Non c'è bisogno! Non c'è bisogno! Ma che c'è sta, ma preoccupare qua! Dai, su! Eh, amica, che te devo dir tutto, mo! Che? Già arrivato! Guarda! Mi è riso! Dopo un'ora me dà la scarica, dai! Eh, sì, sì! Mo tu sei... Dopo un'ora me dà la scarica! Eh, vabbè! È perché là... Non mi è buttare truppe! È perché non mi è buttare truppe! Mannaggia, li sandali! Eh, mannaggia, li sandali! Guarda un po'! Ecco! Hai visto? Hai visto? Eh? Vabbè, dici, eri capace? Oh, eh, oh! I barbie, si è andata da quello con lo cuore, oh! Che cazzo si cuore, quello? È perché non la sapevi, sta tattica? No. Comunque io faccio? Oh! Ah, che bella palla di fuoco di merda! Come ti hai diventato allangato, eh? No! Me scivola il mouse, raga! Me scivola il mouse! Vabbè, sì, mo, ma quante cose! Quante stronzate! Dai, su, e dai, non siamo a far così, però, eh! Eh, non siamo a far così! Non siamo a far così! Grazie, ma non ha 100 soldi! Regà, c'è stata mezza piotta, eh! Quindi, in modo che... Guarda! Non mi lancia le truppe! Porca troia! Guarda quel coso quanto fa male! Qui non mi lancia! Stantissimo, sì, sì! Wow! Wow! Comunque non mi lancia le truppe da te! Dai, alla fine qualche danno me l'hai fatto, dai! Ma si è mai fatti danni! Eh, schifoso! Dai, che sicuramente quella torre là non riesco più a buttartela giù, sicuro! No, non li accetto! Sto 70! Non li voglio! Ah, io ti dico, io tutti gli youtuber che giocano con me a Clash Royale, o vincono perché vincono, o devono perdere male! Cioè, è così! Oh, una combo fatta bene, sei riuscito a farla! Meno male! Mamma mia, oh! Mo' che? Beh, diciamo che quella torre infernale... Eh, ho capito! È come devi fermo, se no! Eh, ho capito! Dai, su, che alla fine non ti sta arrivando a niente addosso, su! Ah, bello quel dormatore! Ah, ma almeno! Questo è sacco! Eh, ridammi se è tante roba, affanculo, va! Niente, ho un po' da corrompere, non ci sono riuscito, regà! Dai, su, alla fine non me ne è male! Orco due, no, è bello che mi fa pure, ne ho capito! No, mettevi i barbari, fai quella, no, è bello! Lì, è quello che lo sa usare, che ha tenso buono! Ma cosa? Che cosa vuoi? Che cosa vuoi? Dimmi, che tu devo togliere qualcosa! Comunque, i C-70 erano matati di lui! Io proverei a cambiarla! Cioè, ma io laggo! Ma a me diciamo che cazzo è possibile! Che la connessione è quella! Ma a me diciamo che cazzo faccio all'agga! Sì, sì! Eh, qua! Eh, eh, eh! Vaffanculo, va! Cambia la clonazione, che non ti serve a niente! Non ti serve a specchio! Ma non te serve a specchio! Io ne so, metti... Ma tu, di che carta c'hai paura? De niente, c'ho pure de niente! No, mi devi di, che c'hai paura? Niente! Ermago! Ma tu, chi vuoi contrastare? Te rompo il culo! Vabbè! Mi devi invitare! Eh, io devo lo dà... Una volta, io ve lo dà una mano... Niente, ha fatto lo stronzo! Vai! E una volta, io ve lo dà una mano! Vuoi vedere perché t'ho fatto un trucchetto? Ho levato subito il magro, t'ho messo un'altra carta! Vabbè! Ma te faccio vedere io che t'ho messo! Il trucchetto, perché io non te vedo dove ho scritto! Non può, vedi, non c'è la carta qui! Guarda! Ma che ne sa questo, raga? Che ne sa? Che fino a mo' Begli arcieri! Che fino a mo' t'ho fatto vice! Begli arcieri, Simu! Ah, ma tira da un tempo, hai visto come sei? No, vedi? Ho detto... Ho detto la mente! Da, ma come fa a tira subito quelli dei? E come hai fatto tu? Eh, che cazzo? Ma ce l'hai lei? Si erano felici! Eccolo il trucchetto! Ma no! Che trucchetto! Guarda un po'! T'aspettavi? Eh, guarda un po' l'acqua, la torre che gli succede! Che gli succede? Tutto a posto! Sta tutta a norma! Mezza vita gli d'orto! Non ho capito! Aspetta che c'ho Elisir, non mi attaccavi! No, no, infatti mi difendo da sto stronzo, tranquillo! Non mi attacca l'Ancio Elisir! Madonna, ha messo quella! Chi lo ferma più? Ma vedi che in modo è bato! Ma sì, 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 sì! A me te ne ti preoccupo, vedi io che mi lanci! Ah! Ah! Subito! Ti butto giù subito, penso! Ah! Dai, ritira il barbacino! Non ti azzarda! No, no, ma chi è questo azzarda? Non ti azzarda! I BORBARI! Qui, cinque buttate così per qua la cosa, le si muo! Mamma mia! Eh, se no, mi buttò giù la torre! Eh, ho capito! Sto schifoso! Vediamo come si comporta il Goblin, c'è il bottagnere contro quelli, ma! No, sicuramente non li butta giù! No, no! Poi l'hai buttata bene la fornace, complimenti! Ammi, ti calcolare che io ho l'ansia! Ma sappia che io ho dato 70 euro, non ti sei voluto corrompere quei 70 euro! Non è... Cioè, 70 euro, regà, mi gli ho dato! Vedenti, cioè, boh! Non è possibile se fa' corrompere quei 70 euro! Ammi, quando cacci i barbaricetti? Eh, boh! Quando ho l'elixir, mi! Ah! No, no! Nanti, adesso non c'ho più... Non c'ho un chiezzo! Madonna, adesso ti faccio una tattica a me! Madonna! Che te faccio mettere paura! Ah! Non è tutto! Fino! Ah! Ah! Che danno me l'hai fatto? Ah! Porco 2! Desmolecolo! Ah! Desmolecolo! Ho capito! Ho capito, ho capito! Eh, sì! Ah! Mi è rimasto 60! Eh, già! Dai, che rifai? Qua una tattica per merda, sì? Io no! Dai, un paio di corpi! Beh! Eh! Eh! Cioè! Le! E non fostro un zonano balonare! Pezzo di merda! Pezzo di merda! Però guarda la torre! Ah, sì, sì! Era quasi cascata! Ah, che bravo! Ah, beh, ragazzi, ho fatto tu fa vicino che cosa... Non è che posso battere così anche tutto, eh! Ah, no, no, no! Eh, su! No, 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 no! Dai, cessata sta sfida, no? Sì, sì! Bella combattuta, Gajardo! Devo dirti! Se ne sente proprio assi e colpo! Ragazzi, allora! Questo video ci sta in massa, bella rossa, è una partita! Lo spettacolo è nata, oh! Mi vedete bella! Eh, ricordi che la chiedeva in feriata! Comunque, ragazzi, sta sfida l'hiamo fatta vincere, che sennò poi mi pare brutto, rega, dai! No, ma... Quindi, la prossima volta consigliatemi voi un deck, anzi, andiamo sui video scorsi e ci andiamo a prendere proprio il deck che loro ci hanno fatto! Sì, voglio vedere se vinci, voglio vedere se vinci, capito? Fate un deck con tutte le carte leggendarie, voglio vedere se vinci! Possiamo fare... Ah, se tutte epiche! Allora, prossima... Becker, golem, è meggio! Sì, sabato! La prossima volta possiamo fare un video solo leggendarie! Eh, ma... Eh, ma... Eh, ma non è così! Centomila mi piace! Eh, eh! Facciamo il video la prossima volta con tutte carte leggendarie, signori! Ovviamente noi sciocchieriamo noi il deck, però, però con tutte le carte leggendarie! Sono quelle le carte leggendarie! Sotto! Eh, non so che sotto! No, so di più, mica sotto, eh! Mi dico? Sono una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto e nove! Eh, sono nove, vedi, però... Ma manca una! Eh, una rimane fuori! Una rimane fuori, quindi... Eh, eh! Devi saper scegliere bene due leggendarie! Ho capito! Grazie, Joker! Ragazzi, mi raccomando, un bel like! La prossima volta sfida solo carte leggendarie e la prossima volta solo carte epiche! Oggi che cazzo combini! Ambo c'è un tablet! Le faddeco! Io sto sfumando i capelli! Al prossimo tempo del vostro giocerigno, ragazzi, fanculo a ciccio! E poi dici che posso giocare... Che sei disconnetto, ragazzi! Allora, che bella palla di fuoco! No, la scarica non cade! No, no! Balla di fuoco! Bella, raga! Bella! La palla di fuoco, terminatore! Oh, scherzi? Eh, eh!